Ciao ragazze, questo sarà un video in collaborazione con la bellissima Federica qui su Youtube Derry Bruno e la bellissima Daniela qui su Youtube Ciotolina vi lascio giù nell'info box i link dei canali e del video in collaborazione con me di Federica e Daniela abbiamo deciso di fare una rubrica settimanale che si chiama Top of the Week ovvero i 5 prodotti top della settimana più il profumo, la canzone e il film preferito l'ho trovata davvero una cosa molto innovativa e carina e quindi abbiamo deciso di instaurare questa collaborazione e sono felicissima perché sono due ragazze davvero eccezionali vi mando un bacione belle mie e inizio subito col mostrarvi i 5 prodotti top della settimana allora sto cercando di fare il progetto smaltimento blush che ho visto dal video di Pink Fashion 1985 vi lascio giù nell'info box il link a quel video perché lo trovo molto utile mi sono scritta diciamo tutti i blush e ne ho ben 57 cioè si lo sono malata e quindi devo smaltire qualcosa perché non è possibile davvero cioè non li finirò anche in 5 vite 57 blush e quindi ho deciso di finire diciamo di utilizzare durante la settimana questi due blush in combo come ha fatto lei e praticamente questo qui di Essence il 10 Adorable della linea Silky Tuts Blush che è già una conca devo dire la verità vedete e diciamo è abbastanza chiaro per me quindi io per forza ci devo mettere una base oppure devo passarci più volte diciamo e durano eccolo qui vedete si nota pochissimo sulla mia pelle perché è molto molto chiaro perché avendo una pelle olivastra i blush molto chiari non si notano e in combo praticamente ci abbino questo qua in crema di un'edizione limitata di Essence Guerilla e vi faccio vedere diciamo la combo che bell'effetto che da praticamente è davvero carissima questo diciamo è il il blush in crema di Essence e sopra ci vado a mettere questo qui in polvere da tipo un effetto salute sulle guante è davvero carino vedete vabbè qui non è sfumato benissimo però vi ripeto dà un bel effetto quindi sto cercando di smaltire questi due blush e quindi durante la settimana diciamo utilizzerò questi qui per cercare di smaltirli insomma perché davvero ragazzi ne ho tantissimi e non contenta ho comprato anche un altro blush vabbè quando uno è malata è malata non c'è sta niente da fare poi un altro prodotto utilizzato come primer occhi questo correttore liquido di Ariana mi ci sto trovando bene ed è correttore liquido nella tonalità 02 02 questo qui ha un costo di 2 euro è valido sia come correttore che come primer questo è il prodotto e durante la settimana l'ho utilizzato come primer occhi e devo dire fa un ottimo lavoro ed ha un costo davvero irrisorio di 2 euro poi ho ricevuto un pacco dall'azienda Bare Faced Beauty che è un'azienda inglese di prodotti minerali sto provando diciamo i loro prodotti e questa settimana qui mi sono soffermata su mi sono soffermata su questo prodotto che è un fondotinta minerale però io avendo la pelle secca non posso utilizzarlo come fondotinta ma come cipria e diciamo per tutta la settimana eccetto qualche giorno l'ho utilizzata ed è Mineral Foundation Promise penso si pronuncia così in ogni caso perdonate il mio inglese è pessimo non si vede un caspita perché è scritto tipo argentato luminescente non si vede niente comunque 10 grammi di prodotto ha una scadenza di 24 mesi e l'inci è davvero buono perché all'interno contiene solo la mica e lo zinco oxide e niente è questo qua praticamente mica e zinco ossido credo non ne capisco niente di inci però tutti i prodotti che mi ha inviato questa azienda questo è l'inci più o meno anche gli ombretti hanno questo inci scusatemi la sto provando e devo dire mi sto trovando davvero bene ha una buona coprenza e fa l'effetto viso perfetto quindi per ora ve lo promuovo poi ovviamente vi farò il video haul di questi prodotti vi faccio vedere insomma i prodotti con cui mi ci sono trovata meglio i prodotti i prodotti che non mi piacciono e niente per ora lo sto provando e mi ci sto trovando abbastanza bene quindi lo metto tra gli usati diciamo tra i top della settimana poi un altro prodotto che ho utilizzato è questo qui il mascara di essence e love extreme perché comunque è abbastanza secco non voglio proprio che si fa secco 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 non lo posso più utilizzare quindi durante la settimana ho utilizzato questo qui le love extreme che comunque dà sempre un bel effetto volume alle ciglia devo dire la verità non vi dico nient'altro perché voglio dire di recensioni su questo mascara ce ne sono tantissime e poi ho rispolverato dalla cassettiera questa qui la unaturella che è stata una delle prime palette che ho palette una delle prime palette che ho comprato di slick e niente l'ho rispolverata dalle tenebre si può dire e questa diciamo come potete vedere è molto utilizzata in particolare in particolare questo qui che si chiama honeycomb che io adoro perché è lo stesso colore di palpebra e mi fa fare dei trucchi tipo pin up stupendi e insomma lo adoro in realtà io adoro tutta la palette è davvero fantastica e si può dire è stata una tra le palettes più utilizzate che ho di slick quindi l'ho rispolverata e l'ho utilizzata durante la settimana come potete vedere conservo tutti i fogliettini con i nomi degli ombre non so mi piace anche la scatolina perché devo dire la vediamo queste di slick hanno sempre questo packaging fatto da questa scatolina molto carino poi adesso c'è da indicare il profumo diciamo preferito della settimana allora durante la settimana per tutta la settimana ho utilizzato questo qui che è l'acqua profumata di trattamento all'amore in muschio semplicemente perché la voglio terminare è un profumo prettamente estivo ed è dell'HQ infatti vedete è proprio c'è uno sputacchio dentro proprio uno sputacchio e l'ho utilizzata insomma perché volevo terminarla cioè insomma volevo terminarla ci saluta dal pavimento dal parquet e la rimane e niente volevo terminarla sei suicidata perché sei offesa e niente insomma come profumo quella lì poi come film questa settimana vabbè io sono non sono molto normale cioè io ho 25 anni però sono molto vecchia dovete sapere e mi vedo le fiction film della settimana è peccato e vergogna con Gabriele Garco e io e il mio fidanzato insomma ce lo seguiamo cioè il mio fidanzato si può dire ci seguono quasi tutte le quasi tutte le fiction perché ci piace proprio e quindi il film il film è stato peccato e vergogna e poi come come musica vi linko giù nell'info box la il video qui su youtube perché non lo so mettere nella nel video e poi comunque mi cancella il youtube mi cancella il video perché viola il copyright che caspita è quindi vi linko giù nell'info box direttamente il video a questa canzone che è Animals di Martin Garrix che è una canzone molto tipo tecno un po' tecno house che io mi ascolto quando mi preparo tipo per gasarmi sai queste stronzate che faccio io davanti allo specchio quando mi trucco mi sento sta canzone perché mi fa gasare in particolare il ritornello sì lo so sono un cretina però vi ripeto c'era da indicare la canzone e quella è la canzone della settimana e niente fatemi sapere cosa ne pensate di questo di questo diciamo rubrica settimanale a me piace molto anche il fatto di aggiungere il profumo la canzone e il film la trovo una cosa davvero molto carina perdonatemi per il profumo che mi è scappato di mano ma non lo so perché comunque per le nuove iscritte io e non tutti i video mi cade qualcosa quindi non vi preoccupate e niente vi mando un bacione ci vediamo prestissimo nel prossimo video saluto Federica e Daniela mi è fatto davvero piacere questa collaborazione e spero che durerà tanto perché mi piace mi piace molto e niente un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze